Opa! Opa! Ciao a tutti! Io sono Lulu E io sono Farfallina26 E anche oggi ci troviamo qui con una nuova challenge La sfida di oggi consiste nella make up challenge senza mani Quindi dovremmo cercare di colorare la faccia O meglio, truccare la faccia del nostro padre con la bocca Perché i piedi non sono utilizzabili Puzzano i suoi Quindi non possono essere utilizzati Puzzano La persona che verrà truccata meglio perderà Quindi se lei mi trucca benissimo io perdo e farò la penitenza che avrete scelto voi Come sempre in ogni singola sfida Direi di iniziare e dare il via a questo make up Ecco qua, il materiale c'è Quindi ora iniziamo a truccarla a Lulu Inizio io, inizio io Un passaggio a testa allora Ok, un passaggio a testa Ma no, subito il rossetto Ok, un passaggio a testa 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 Questo mi ha messo sotto degli occhi Sopra gli occhi Quindi qua sopra Sì, piano perché io ho l'occhio monco Cosa fai con la mano? Mi lo metto in bocca Io sono veloce, rapido e indolore Che cazzo è strogo? Dove va? Chiudo gli occhi è veloce Devi stare fermo No, mi sembra la pelle liscia Ma fa male Ma perché la parte ho scusa, ho sbagliato la parte La parte con legno Mi ha spagato la testa Che capita, madonna, tiramenti Cioè, non so Ma perché? Oh, no Ti dico, ti dico, ti dico, ti dico Ti dico, ti dico, ti dico Chi dico, le loro sottote le mani? Io me ne dico Tu parlano Sono muti Adesso Tu cazzo Posso un attimo sistemarti qua? No, no Perché ti ho messo la mano Asta cazzo tua Facciamo un hashtag nuovo Hashtag cazzo tua Tagadagada Close the eyes Ma cosa fai con il rossetto negli occhi? Devi mettere questo negli occhi E posso fare io? Dai, fai quello che vuoi Oh, no Ciao Mettete un attimo, guarda, qua Incomincio, più vicino Incomincio a fare Pennywise, il crown danzante Guarda che tu mi sto truccando male Perdi, eh Alla fine Sarai bellissima Ormai vici te stavolta? Lo so Però Ti ho truccato in modo bello Potresti andare in giro così Sì E tu c'è questo? Quello che ti ho messo io Lo scelta Ah, non mi piace Questo come funziona? Oddio Ma su gli occhi questo? Oddio Ma devi andare di lato Amore Non così Devi Ma non mi ha messo così Ho fatto Penso di aver sbagliato qualcosina La tovaglia No Fai piano però Cioè Asta che Ultima fase Ti metto lucida labbra Che buono Adore Che cosa Me lo mangerei tutto Ma come lo stai mettendo? Sembra che stai mettendo pittura Non sei te a decidere questa volta La penitina la facciamo nel prossimo video Così sarà il pubblico a decidere E mettiamo un sondaggio Claro L'ultimo passaggio mio Questo però Oh cazzo Mi ha messo pure in diretta Tu Bari E tu Napoli L'avete sentita? È tutto il giorno così Cazzo Tocco di classe Guardati sei bellissima Dove è la ragazza? Dove sono gli alunni? Direi che questa sfida Può chiudersi Un tocco di classe Hai brogliato Meno tre punti No No Serve perché è matt È compatta il tutto Facciamoci vedere Compatti come siamo Direi che questa sfida è finita Tocca a voi Adesso scegliere chi dei due È più carino Quindi se sono più carino io Vince lei Se è più carina lei Ma scusate sembra un clown Ma non è vero Ma sembra un clown Ma scusa Potrebbe essere un nuovo tocco d'arte Che la gente Ammira Magari piace E vai dai nuovo stile Nella nuova moda Ecco Moda Lulu Hashtag sono un clown Hashtag Pennywise C'è un clown Quindi ora Il gioco È tutto Dalle vostre mani Mi hai messo nell'occhio Scegliete voi Il vincitore della sfida E nel prossimo video Chi avrà perso Subirà subito La penitenza All'inizio del video Anche per oggi Questo video Si conclude qua Vediamo Nella prossima challenge Un saluto da Farfallina Pennywise È per me Ciao ragazzini Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti